Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video speciale, speciale perché vi dirò delle cose davvero speciali e speciale perché ci sarete voi in questo video e speciale perché è un altro speciale, speciale di cosa dai 70.000 iscritti perché abbiamo raggiunto due giorni fa i 70.000 iscritti e io non ci posso credere seriamente parlando, mi sembra ieri, anzi è quasi stato ieri che abbiamo raggiunto i 50.000, i 60.000 l'altro giorno e ora sia qua i 70.000 e io non ci posso credere perché stiamo diventando una famiglia sempre più ampia, sempre più grande e io non potrei che essere felice di ciò e niente, come sempre, come tradizione, vi leggerò un testo che ho scritto sulla felicità la felicità che ho grazie a voi sono felice perché a voi, sono felice per questo traguardo anche se non è il numero che mi rende felice ma le persone che ne fanno parte sono felice di rendervi felici sono felice di trasmettervi qualcosa attraverso un video sono felice di riuscire a strapparvi un sorriso nei momenti più tristi e bui sono felice quando vedo che vi emozionate quando mi vedete sono felice quando mi abbracciate le vostre braccia per me sono a casa sono felice quando mi dite che vi ho aiutato in un brutto periodo sono semplicemente felice di ciò che ho raggiunto ciò che ho raggiunto è grazie a voi voi che ci siete sempre per me sempre quando passa un brutto periodo semplicemente sono felice di noi noi, noi siamo una grande famiglia noi insieme possiamo superare tutto noi ci sosteniamo sempre io ci sarò sempre per voi e voi ci sarò sempre per me e dico davvero quando c'è un brutto periodo voi sapete sempre come tirarmi su di morale poi vabbè i vostri edit le fanpage che ah mi emoziono e allora probabilmente come vedete mi stanno per emozionare però vi ho chiesto di scrivermi delle cose su instagram perché volevo vedere cosa io sono per voi e che avete scritto di quelle cose che wow e niente ora le andrò a leggere perché voglio troppo ringraziarvi allora legga cosa scrittura mi fanpage che si chiama il culo della mano e io la adoro sta ragazza mi scrive cara Eli spero tu legga questo commento ma non per apparire nel tuo video ma per farti capire cosa hai fatto tu per me con un semplice video mi hai trasmesso tante emozioni tra cui la felicità non cambiare mai una comodità non si trova facilmente e con un solo sorriso o gesto mi fai star bene ti metti davanti una telecamera e lasci tutte le persone attaccate allo schermo scrivendo solamente le tue parole e i tuoi pensieri non è cosa da tutti complimenti sei una ragazza fantastica non sei reso splendido mi fai sempre sorridere con il tuo cavolo di video te ne rendi conto sono delle persone più speciali per me oltre ai miei genitori ovvio ovviamente in questo commento non posso esprimere tutto il bene che ti voglio se no non finirei mai e niente con questo volevo dirti che devi sempre andare avanti affrontando gli ostacoli e sappi che noi ci staremo sempre qua per te ti amo Little Stitch grazie grazie mille davvero poi un'altra ragazza ragazzo non lo so perché non è fanpage credo mi scrive ehi Eli volevo congratularmi con te per tutti gli obiettivi che hai raggiunto volevo anche dirti grazie una parola che può sembrare inutile ma che racchiude tanti significati grazie per essere sempre stata te stessa grazie di avermi aiutata quando non c'era nessuno grazie perché con i tuoi video mi strappi sempre un sorriso grazie perché con i tuoi pregi e con i tuoi difetti mi fai sempre star ridere e sognare detto questo non arrenderti mai e continuo per la tua strada spero di poterti guardare negli occhi un giorno e raccontarti tutto ciò che io ho da dirti detto questo riguarda se c'è una persona che possa assicurarti se c'è una cosa che possa assicurarti è che i miei occhi non smetteranno mai di guardarti ogni volta sei come se la cosa più bella del mondo è possibile allora mi impapiro per il semplice fatto che mi emoziono e io quando mi emoziono non riesco più a parlare e niente wow davvero queste cose questi commenti sono quelli che interalmente mi rendono felice quindi grazie mille poi c'è un testo lunghissimo che mi scrive Laura affinito mi sembra si non so come si lega il cognome mi scrive e poi nella mia vita entri tu io non sono mai stata una fan di youtube anzi ero l'unica tra i miei amici che non li sopportava e non spiego nemmeno io il motivo sei arrivata tu quella ragazzina più grande di me di pochi mesi a dire la verità ti ho conosciuto grazie a musical.ly l'avevo installato da poco e il mio primo musical.ly era ispirato vabbè ispirato a te anche se non spiego bene chi hai poi ho iniziato a seguirti i tuoi video erano più belli e poi c'era quel sorriso stupendo quel sorriso far allegrare la più brutta delle giornate più tardi ho iniziato a seguirti su youtube all'inizio ero un po' scettica perché come ho detto prima non sono un amante di youtube ma tu eri e sei diversa non sei come gli altri non sei una di quelle che fa video comici ormai quasi tutti uguali tra di loro non che abbia qualcosa contro questi youtuber tu sei una ragazza che ha provato come molti fanno ad aprire un canale e vedere come andava mi sei stata simpatica allo subito quello sguardo dolce quel tuo sorriso magnifico quel tuo modo di fare che adoro ma del resto di te adoro è tutto poi abbiamo anche una passione in comune Stitch da quando ti ho vista per la prima volta ho sempre voluto incontrarti ma vivendo in Toscana non è facile venire da te mi ha scritto una un poema ma sì ragazzi è lungo anni è bellissimo e ti ringrazio un sacco perché le tue parole ovviamente lacrime laghi fiumi oceani alto del pacifico e un bacione a tutte le ragazze che mi sono state delle cose bellissime perché io giuro che wow vi leggo l'ultimo l'ultimo è stato il primo che ho scrinnato perché è molto particolare ed è bellissimo nel senso che questa persona capito tutto di me e se trovo il commento ve lo leggo ok ho trovato il commento però il nickname è Ariana Grande quindi non credo che sia Ariana Grande sicuramente però mi scrive ma è normale che ogni volta che vedo un tuo video mi senta così bene come se per alcuni minuti tutti i miei problemi fossero spariti e davanti ai miei occhi ci sia la persona che rappresenta un po' la mia felicità ti adoro sei importantissima per me grazie grazie a voi ragazze grazie grazie e ragazzi grazie a voi realmente io non so cosa farei senza di voi cercherò davvero di incontrarvi il più possibile perché io voglio finalmente venire dalla vostra città abbracciarvi e sentire il vostro calore perché è essenziale e niente vi mando un grosso grosso bacio e grazie di tutto e vi sto di nuovo commuovendo quindi ciao ciao